No signori, sono l'uomo di casa. Se fino a qualche giorno fa mi avessero chiesto si può sdoppiare un cavo LAN in modo da ottenerne due che siano contemporaneamente online? La mia risposta sarebbe stata assolutamente no. Fino a che non ho trovato questo aggeggio. Anzi, questi aggeggi, perché vengono venduti in coppia. Infatti, grazie a questo sdoppiatore è possibile avere da un solo cavo due cavi ed entrambi con la connessione internet attiva o con la connessione di rete attiva. Come è possibile? È possibile se si montano in maniera corretta. In questo video potrete vedere non solo il montaggio ma anche il test che poi ho fatto con due computer contemporaneamente connessi online con il test di velocità internet, quindi pompati a manetta. Ma non voglio tediarvi oltre, non voglio anticiparvi niente, quindi pollice in su, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici e buona visione a tutti. Bene, signori. Allora, iniziamo a capire come funzionano questi sdoppiatori. Abbiamo detto che vanno utilizzati per forza in coppia. Il primo va messo vicino al router. Come si usa? Allora, dobbiamo staccare la presa dal muro che abbiamo fatto, cioè la nostra rete cablata, e attaccarci il nostro sdoppiatore. Ora, non basta attaccare una presa del router a una presa per sdoppiarlo dall'altra parte, bensì dobbiamo prendere un secondo cavo LAN, attaccarlo alla seconda porta del nostro router, così, non guardate come è crimpato il cavo che veramente l'ho fatto velocemente ed è venuta una munnizza, e attacchiamo il secondo cavo anche al nostro sdoppiatore. Che cosa succederà? In teoria, 16 cavi verranno dirottati in 8 cavi e dall'altra parte andiamo a fare la stessa cosa, cioè da 8 cavi li faremo tornare a 16 cavi. Quindi ci spostiamo nell'altra presa a muro e andiamo a mettere l'altro adattatore o l'altro sdoppiatore di cavo LAN. Bene signori, ora ho due computer come vedete attaccati alla stessa rete con i due cavi LAN. Adesso vediamo un attimino. Come vedete qua il computer Windows dice che l'Ethernet è connesso e che c'è la rete pubblica. Andiamo a vedere qua sul Mac che cosa sta succedendo. Come vedete la rete sembra presente. Adesso proviamo ad andare su internet. Io mi ho fatto questa ripresa che fa abbastanza schifo per farvi vedere che è tutto in diretta, cioè non ho voluto registrare lo schermo che poi mi dite che non è vero. Adesso io provo ad andare su internet con entrambi i computer e vediamo che cosa succede. Quindi qua scrivo, vado su un sito a caso. Come vedete si sta connettendo. In questo caso vado su un sito a caso anche di qua e anche questo è connesso. Ora lasciatemi andare un attimo nello speed test e verifichiamo com'è la velocità. Per adesso tutto a posto. Bene signori, siamo connessi e facciamo partire tutto. Via 1, via 2. Grazie a tutti. Bene signori, non so se voi vi ricordavate il risultato del precedente test che avevo fatto quando avevo messo la rete cablata. I risultati erano, come avete visto, circa la metà. Adesso io vi faccio vedere un attimino, perdonatemi l'immagine. Contate che io li ho fatti partire con qualche secondo di stacco eppure i risultati sono più o meno gli stessi. Quando è partito il download avete visto che a un certo punto se lo sono divisi. Veramente uno spettacolo ragazzi. Bene, che c'è da dire? Guardate, sinceramente, non lo so. Una cosa è certa, funziona. abbiamo sdoppiato il nostro cavo LAN. Ora, dovremmo provare a fare due videoconferenze, però non avrebbe alcun senso fare questa prova. Di fatto, condividono la connessione. Si vede chiaramente, se la dividono equamente. Ora, noi potremmo fare tante cose, tanti discorsi. Funziona ragazzi. si può dividere il cavo LAN utilizzando questo aggeggino. Detto questo, io non ho più nient'altro da dirvi. Se avete qualche domanda, qualche cosa che non avete capito, qualche spiegazione tecnica, scrivetemela qui sotto nei commenti e io tenterò di rispondervi al meglio delle mie capacità. Detto questo, pollice in su, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.